Ehi ragazzi, abbiamo visto questa farsa del Quirinale che si risolverà probabilmente con un mattarella abisso. È stata utile perché pensavamo che i vari leader fossero mediocri, ho sempre pensato che i politici sono mediocri e ci rendiamo conto che sono nulli, sono delle nullità e veramente uno schifo, sono stati dieci giorni, hanno proclamato nomi, cognomi, donne, uomini, di tutto. E com'è finita? Com'è il gioco dell'occa, è finita il punto di partenza e noi siamo governati da questa gente qui, ma che si vergognino, noi cittadini dovremmo votare per il Presidente della Repubblica, non questi, ma non sono neanche, sono nulli. E questa è la dimostrazione che la politica, chi gestisce il paese è gente nulla. Pensate come possono gestire i soldi che arrivano dall'Europa questi personaggi qui, sono nulli. È veramente una delusione, lo sapevamo, ma nulli così non lo pensavo. Sono nulli, è uno scandalo che noi siamo gestiti da gente così incapace. Incazzato, incazzato, ci hanno preso per i fondelli per dieci giorni, con nomi di tutto ci hanno dato. E com'è finita? Mattarella bis, il gioco dell'occa, l'inciuccio generale. Di conseguenza dei cittadini non gliene prega nulla, ne hanno preso per il culo per questi dieci giorni, poi noi onestamente cosa cambiava? Niente, però è la dimostrazione che siamo gestiti dalle nullità. Ciao ragazzi, da Londra.